Continuano la loro protesta gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di Vittoria che da ieri sono riuniti in assemblea permanente autogestita per chiedere attenzione agli organi preposti su una serie di disservizi e difficoltà. La decisione è stata assunta dopo che nelle scorse settimane più volte i rappresentanti di istituto in rappresentanza di tutti gli studenti hanno manifestato i loro disagi al preside dell'Istituto che comprende l'indirizzo alberghiero e quello professionale. Il dirigente scolastico Giorgio Larocca ha chiesto ancora tempo per cercare di risolvere alcuni problemi ma il fatto che a due mesi e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico gli studenti non abbiano ancora un orario definitivo delle lezioni significa che qualcosa nell'organizzazione non va. I ragazzi lamentano il fatto che ci sono addirittura classi che in un giorno hanno per 5 ore la stessa materia e questo non è possibile. Tantissime poi le carenze strutturali dell'edificio scolastico ridotto in condizioni fatiscenti. Nei servizi mancano le porte, i termosifoni sono pericolanti, le cassette con gli impianti anti-incendio sono divelte, molte finestre e serrande sono rotte. Gli studenti lamentano anche il sovraffollamento di alcune classi che a causa dell'alto numero di studenti non possono usufruire dei laboratori. I ragazzi chiedono un intervento per risolvere almeno i problemi più urgenti e necessari e si dichiarano decisi ad andare avanti fin quando non si avranno dalla dirigenza segnali concreti.